L'impresa l'abbiamo fatta e quindi adesso andiamo a fare una partita piacevole perché sono una di quelle poche partite dove non c'è in palio significati importanti, però proprio per questo credo che sia una partita molto piacevole da giocarsi apertamente e cercare di vincere come vogliamo fare. Sarà una grande festa al Partenio, attesi 10.000, forse qualcosa di più spettatori, quindi partecipare a questo evento e poi tuffarsi nei play-off. Sì, partecipare a questo evento non vuol dire però andare giù a giocarcela, come abbiamo fatto sempre perché è piacevole continuare anche a fare quello che stiamo facendo, non perdere l'abitudine e poi ovviamente stiamo anche preparando per affrontare i play-off che è un risultato importante e che la città sta vivendo con grandissimo entusiasmo ed è palpabile e percepibile, quindi ci fa un grandissimo piacere. Chiusura proprio su questo, domenica la vittoria con il Benevento ha dato i punti decisivi ma soprattutto è stata una giornata bellissima perché il Pisa ha riscoperto, i suoi tifosi e i tifosi hanno riscoperto un grande Pisa. Sì, è stato molto piacevole, l'ho detto ai tuoi colleghi alla fine della partita perché poi si sono unite tantissime cose tutte insieme, quindi una prestazione impeccabile, degli ostacoli da superare in corsa, tanti ragazzini in mezzo al campo e tanti ragazzi fuori, tanto tifo e tra l'altro sono stati come al solito genitalissimi nei miei confronti e io ringrazio, è stata una cosa piacevole, devo essere sincero, è anche emozionante, quindi sono sicuro che anche nella prima giornata dei play-off verrà tantissima gente che ci darà una mano. Grazie.